Buongiorno a tutti, benvenuti a conferenza stampa di vigilia di M. Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentare voi la vostra testata e di fare una domanda alla volta. Iniziamo come di consueto dal canale. Buongiorno a M. Enrico Zabonui, Juventus TV. Che cosa ha lasciato alla squadra la vittoria contro l'Inter a livello di mentalità, di carica e di consapevolezza in vista della gara di domani con l'Ellas? Ha lasciato che abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia, però già dal giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Anche perché domani andiamo a giocare a Verona contro una squadra che negli ultimi cinque partiti ha battuto tre volte la Juventus. Una squadra che negli ultimi partiti abbia fatto le sconfitte in modo immeritato. Perché comunque è una squadra che crea, soprattutto in casa, una squadra che ha buoni tiratori, buoni calcianti di palle inattive. Una squadra che aggredisce, una squadra fisica. Domani non sarà assolutamente una partita semplice, tutt'altro. E non merita, secondo me, la classifica che ha. Quindi starà a noi giocare una partita al pari loro sotto l'aspetto fisico. Giovanni Guardanasca e Sport, le chiedo un po' il punto, visto che abbiamo letto sui report che recupera qualche giocatore. Le chiedo intanto se giocherà Perin e poi Paredes di Maria, Ken, se sono pronti per partire dall'inizio. Allora, Paredes e no, scusate, Perin domani gioca, perché Scesi ha giocato 12 partiti di seguito, se non sbaglio, quindi domani tocca a Mattia. Per quanto riguarda gli altri, oggi dovrò valutare quelli recuperati, sicuri, ma non è detto che giocano, sono Paredes e Ken. Di Maria comunque lo valuterò, però difficilmente ha 90 minuti nelle gambe, è più probabile che abbia mezz'ora che 90 minuti. Per quanto riguarda gli altri, Vlauic da valutare oggi, McKennie da valutare e Chiesa da valutare. Buongiorno, Romea Grestigol.com. Le chiedo, mister, se ora a livello gerarchico si è da considerare Danilo il vicecapitano. Grazie. Danilo, stasera ho parlato con Quadrato che come gerarchie è quello che, dopo Bonucci, che comunque quando gioca rimane il capitano. Quadrato comunque ultimamente si nervosiva un po' troppo, non gli venivano fischiati dei falli e quindi lui sentiva un po' troppo responsabilità. Allora, parlandoci ho detto che è meglio che Danilo faccia il capitano, comunque era più sereno e Quadrato è stato tranquillo e sereno ad accettare la scelta. Anche se il linea gerarchica doveva stare Alex, ma Alex ha detto che gli andava bene che Danilo fosse il capitano, quindi non è un problema. Detto ciò, capitano comunque rimane Leo quando gioca. Buongiorno, ministro Marco Vendetti, signore Mia Calcio News. Come è accaduto nella Fiorentina quando giocavano insieme Vlaovic e Chiesa? Ecco, se nella sua progettazione di una Juventus immediata post mondiale ci può essere la possibilità di rivederle insieme questi due giocatori che hanno fatto bene in viola? Questo potrà essere, in questo momento è impossibile, quindi io credo che sia bellissimo parlare di progetti, però guardiamoli immediato. Domani c'è Verona e con i giocatori che abbiamo a disposizione bisogna fare una partita sotto l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tecnico. Una grande partita, altrimenti quello che è stato fatto con l'Inter nelle tre partite precedenti e l'Inter viene buttato. Domani bisogna dare continuità ai risultati e per farlo bisogna fare una partita tosta, perché ripeto, le ultime cinque partite che la Juventus ha giocato a Verona ha perso tre volte. Salve, vorrei chiedere una specifica su Chiesa, Vlaovic, visto che li ha citati, soprattutto su Vlaovic, il rischio che possa aver già finito qui il suo 2022, considerando che poi ci sono anche due partite. Grazie. Vlaovic è semplice, soffre di questa infiammazione, tendinia, pubagica, chiamatela come vi pare, ieri a Corsa è andato meglio, oggi valuteremo se è a disposizione, è un bene per la Juventus, soprattutto anche per portarlo in panchina, altrimenti si curerà e poi dopo vedremo se sarà a disposizione per domenica. Per quanto riguarda Chiesa, Chiesa è rientrata, ha fatto bene, è normale che fino a che il ginocchio non trova una sua stabilità e un suo adattamento, perché un conto è fare degli allenamenti gestiti, un conto è fare delle partite dove non sei più in controllo del tuo corpo e quindi è normale che c'è dei momenti in cui ha un po' di fastidio, ma fa parte del percorso rieducativo in campo. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport, volevo dire nei giorni scorsi Mario Mandzukic, che è stato un suo fedelissimo e ha vissuto con lei la rimonta del 2015-2016, ha detto conosco bene Allegri, anche questa volta la rimonta è ancora possibile, volevo capire se anche stavolta la pensa come Mandzukic. In parte Mandzukic, lo ripeto, l'altro giorno ha detto una frase che deve essere scolpita nei muri, che quando si gioca non si pensa a far gol ma si pensa a giocare per vincere le partite, che è la cosa più importante. Per quanto riguarda, io credo che Napoli stia facendo un campionato straordinario, se continua così nessuna squadra avrà possibilità di poterla avvicinare, però noi dobbiamo fare un passo alla volta, domani abbiamo Verona, poi abbiamo tra quattro giorni la Lazio e poi dobbiamo pensare a recuperare energie. Salve Ministro Cristiano Corbo, il bianco riero, volevo chiederle sulle condizioni di Milik, che è apparso un po' la fase di appannamento nelle ultime partite, grazie. Milik si è messo a disposizione, è in ottima condizione, come tutti i giocatori c'è nel momento in cui fa gol, come gli attaccanti nel momento in cui non fa gol, ma sicuramente è un giocatore di grande affidabilità e sono molto contento di quello che sta facendo. Buongiorno Allegri, Marco Bò di Tutto Sport, dunque ancora due partite, poi ci sarà questa lunga sosta, se non ho capito male farete due settimane di stop, di vacanza. Volevo capire da lei come intenderà poi alla ripresa utilizzare questo periodo, questa finestra per riatletizzare, aumentare le energie, se logisticamente avete già deciso anche come muovermi con amichevoli oppure no? Allora, lavoreremo fino al 18 con i tre giocatori che rimarranno, poi ci fermeremo fino al 6, il 6 rientreremo tutti, così almeno rientreranno anche nazionali, perché la nazionale italiana credo che abbia due amichevoli. E da lì inizierà una preparazione con delle amichevoli che ci porterà fino al 22-23 e poi riprenderemo subito dopo Natale e poi dopo gli altri arriveranno a seconda di chi va fuori ai gironi, chi va fuori alle ottavi, chi va fuori ai quarti e alle finali, praticamente è uguale. Buongiorno, mister Alberto Mauro, un messaggero di Ventus News24. Volevo chiederle un bilancio su Fagioli e anche dal punto di vista tattico, se lo vede ancora davanti alla difesa, ho visto che ha dimostrato di avere spiccate dotti offensive, se potrebbe giocare anche un pochino più avanti. Grazie. Sta facendo bene, ma lasciamolo sereno come stanno facendo bene i Miretti, perché l'altro giorno Miretti ho visto che ha fatto già 20-22 partite di Ventus, se non sbaglio, una roba del genere. Fagioli sta facendo bene, ci saranno momenti in cui avrà bisogno di recuperare, in questo momento sta facendo bene e magari giocherà anche domani, così come ci sono altri ragazzi giovani, diciamo giocatori con meno esperienza, che si stanno mettendo in mostra. Non ci sono altre domande? Ok, grazie a tutti e buona giornata.